In poco meno di 30 ore una rapina mano armata ed un furto in piena notte della cassaforte. 11.300 euro in contanti, il bottino e oltre 2.000 euro di danni, oltre ad una cassiera di 54 anni che ha passato attimi di terrore. Questo che sembra un bollettino di guerra è il triste primato del supermercato Copp a Montecchio, nel comune di Vallefoglia, in via Paganini 23, che a cominciare da sabato sera è entrato nel mirino dei malviventi. Con ogni probabilità sembrerebbe essere solo una casualità, una individuazione di possibile obiettivo puramente casuale da parte degli autori, ma ciò che destra allarme è il fatto che da tempo i supermercati sono un obiettivo sensibile. La disavventura del supermercato inizia alle 20 di sabato sera, a chiusura, esercizio, senza clienti al suo interno, ma evidentemente ancora con le porte utilizzabili. Un uomo sulla trentina, con il volto coperto da una sciarpa ed un cappuccio, sotto la minaccia di una pistola, probabilmente giocattolo, si è fatto consegnare da una territa cassiera 54enne, residente a Monte Labate, il contante, dopo aver ordinato dammi tutti i soldi. Avuto ciò che voleva dalla cassiera, impietrita dalla paura, l'uomo si è allontanato a piedi, portandosi via la somma di 1.300 euro e facendo perdere le sue tracce nelle vie circostanti il negozio. Neanche il tempo di riprendersi da questa batosta che un numero ancora imprecisato di malviventi ha pensato, circa le due della notte scorsa, di forzare una porta a vetri sempre dello stesso supermercato ed introdursi al suo interno per portare via la cassaforte dopo averla sradicata dal suo basamento. Bottino, 10.000 euro in contanti custoditi nella cassaforte, oltre a 2.000 euro di danni causati alle strutture. Su questi due episodi indagano ora i carabinieri di Vallifoglia che stanno visionando le immagini delle telecamere per appurare i particolari e l'esatto numero dei componenti della banda. Il fronte dei furti e danni di esercizi commerciali ha visto però impiegati gli uomini dell'arma durante tutto il fine settimana. I carabinieri di Borgo Santa Maria hanno arrestato un 36enne pesarese con precedenti per stupefacenti e furti disoccupato per aver sottratto dal punto vendita MediaWorld alcuni accessori per informatica dopo averli tolti dalla loro confezione per eludere i sistemi antitaccheggio. Ma per il 36enne le cose non sono finite qui dato che la sua perquisizione ha permesso agli uomini dell'arma di trovargli addosso altra merce rubata, sempre della stessa tipologia del valore di oltre 20 euro, un taglierino e 7 grammi di cocaina. Inoltre nella sua abitazione sono state ritrovate altre sostanze stupefacenti, un grammo e mezzo di hashish e 2,7 grammi di marijuana. L'uomo ora si trova agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza che si terrà per direttissima.